mitici pressiamo x lei solo lei solo deep in a maze a madson jungle on a sien e vi hava che le cose sono incomprensibili allora devo ricordarmi ok 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 già preso le prime legnate l'equipaggiamo ok vediamo un attimo come è stata la mappa andiamo di qua a volte faccio cose paurose a volte facendo le cose incredibilmente studi però io non mi ricordo vabbè mi è andata bene stavolta non mi ricordo neanche mai di ma per far danno fanno un macello è quest'arma però chiaramente è lenta però se lo prendi è un massacro praticamente la che rova mi è ammazzato c'era un'altra cosa che dovrei leggere assorbi ho letto non mi ricordo absorb con 80 diventa devo capire questo absorb cosa vuol dire io ho capito cosa vuol dire nel senso che lo posso assorbire no andiamo indietro lo posso assorbire e rimane sempre mio quando c'è qualcosa di figo devo quest'arma per dire figlissima non male neanche a questa allora double jump use r1 ah ma è una sfida forza ok basta quindi questo fallita vabbè ahhh che arrabbia no non è vero però però poco a girare le scatole non ho visto che c'era una porca oh allora stupitona sono certi che sottosti eh sottosti proprio ok allora ora no sei serio? è oro questo? ma non sembrava di averlo visto in giro infatti forse era solo qua oh critical de quindici per scenda enemy killer ma non avevo esplorato qualcosa eh no ragazzi incredibile ah si 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 il pezzo che c'era il pezzo che c'era da fare con la roba la porca loca che legnata che ho preso allora assorbi ah no dai ma non volevo vabbè comunque sto cuccioli a funghiare assorbi fa tipo la roba lì no si non potenzialmente io oh oh diciamo che mi è andata bene e uuuuuh seo uuuuh seo uuuuh Grazie a tutti. Porca. Dai. Non l'avevo visto. 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 a volte li perdo 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 Grazie a tutti. 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 Tutto da capo. Grazie a tutti.